Siamo impecchiati, lui era bellissimo, era molto più alto di me, ora siamo diventati quasi uguali. Guarda come stiamo arrivando, io non avevo una ruga, noi eravamo due figli terribili, noi adesso lo lasciamo aperto. Però siamo impecchiati felicemente, perché all'incubo di finisce non finisce, andrà avanti non andrà avanti, oggi siamo padroni di un prodotto di successo, siamo padroni dei nostri personaggi, quindi non dobbiamo più stare ai gusti, alle scelte, alle tesi, alle decisioni che mortificano questo mestiere, ma siamo sereni, andiamo serenamente verso la vecchiaia con una pensione che ti già prende, io mi accingo a. Per cui che dirti, abbiamo vissuto questo periodo di crisi bruttissima per la società, attraversata però grazie a un postulazione in maniera serena, ma relativamente perché poi sentivamo comunque le ansie della nostra categoria, delle persone che ci chiedevano aiuto, ma siamo riconoscenti a questo lavoro che ci ha fatto fare uno gli attori e passare questo periodo che è stato pesante. È stato pesante, comunque quello che dicevo prima nelle interviste è che quello che a me personalmente, a Patrizio e a Tiguri ti amo questa città come una seconda mamma, si può dire, quello che a noi è fatto tanto piacere è che questi 20 anni abbiano distribuito tanto di quel lavoro, tanta di quell'occupazione, abbiamo creato tanto indotto per la città che io penso che un po' Napoli ce lo dite. Tutta la categoria che ha patito in questi anni, sai, ha trovato qui un'isola felice per quei attori che non lavoravano, con teatro che veramente vive un momento che non ha neanche più il contratto nazionale, non girano le tournée, durano un mese, tre mesi massimo, quindi qua hanno avuto modo di lavorare, sceneggiatori che sognavano di fare un film che forse non avranno mai fatto, lo hanno fatto, è stato un riferimento per tutti. Quello che veramente a noi ci fa piacere, a parte di esserci fatti compagnia insieme naturalmente agli altri amici per 20 anni, noi abbiamo il camerino vicini e Patrizio, diamo questo sguardo insieme alla scena prima di girare, spesso cambiamo qualcosina che divertiamo più nostro, ci divertiamo, non c'è un momento in cui noi lo facciamo senza voglia, il momento del Ciac è comunque un momento di grande allegria. Leggenda vuole tra l'altro che un po' stasso dall'inizio si paventasse la chiusura e poi invece tutto è... Due o tre anni è durato questo, ma si fa, non si fa, si fa... Vabbè, ma quello più che altro quando era il momento che diciamo volevano portare un po' tutto, volevano chiudere un po' il centro di Napoli per dare spazio diciamo più al nord, poi fortunatamente questa idea è rientrata perché credo che la gente, se avessimo chiuso un po' stasso, la gente si sarebbe proprio incazzata come non mai. Noi abbiamo spettatori che ci guardano dal Vietnam, in tutto il mondo. Noi portiamo mezz'ora d'Italia nel mondo, è un po' difficile insomma. E dobbiamo poi dire, a proposito di quello che dicevate prima, che un po' stasso senza Napoli non sarebbe la stessa cosa. Assolutamente la protagonista è Napoli, è quella Napoli che viene amata nel mondo e che poco si racconta perché fa più comodo raccontare la Napoli che poi negativa, che tu esci da Manhattan, l'America è peggio di Napoli, così come se esci da Parigi. Perché a Milano... Però fa notizia, fa notizia. Ma Napoli invece, quella che tutti conoscono, perché poi Napoli conosce tutto il mondo, è questa fatta di poesia, di creatività, di spirito. Per esempio noi senza le maestranze Rai napoletane, ma non l'avremmo mai fatto. Ma non è posta al sole. Mica stanno lì a guardare il cartellino, l'orario, la cosa, gli chiedono una cosa e ti fa sempre quella più qualcosa in più che non trovi nel resto del mondo. In questi vent'anni, un posto al sole è un grande successo, una fascia di piste, ma vi siete mai sentiti valorizzati dalla Rai? Cioè nel senso, io vi vedo poco in giro, non so nel programma, cioè non vi vedo a che tempo che fa, non vi vedo, non lo so, se ne parla poco rispetto poi a quello che è stato e quello che è. Eh sì, noi sinceramente, non tanto personalmente, perché io non è che, come voglio dire, me ne preghi assai, però diciamo che un po' più di attenzione da parte della Rai ci vorrebbero. Quanto riguarda quello che hai detto tu, da Fazio, naturalmente lui è padrone e decide, probabilmente non crede che noi possiamo essere funzionali, diciamo, al suo programma. C'è una grande snobberia. Però a noi... Dicevi di tenerci un valore aggiunto, perché voglio sapere quale attore ha recitato, quanto abbiamo recitato e lui qua dentro, i nostri ragazzi che hanno cominciato, hanno un mestiere che pochi altri attori avveranno nella carriera. Invece di considerarci dei valori aggiunti, un vivaio e quindi prendere da noi, come hanno preso nel resto del mondo, perché tu metti tutte le star americane, buona parte viene dalle soap, dalle serie televisive, eccetera, perché sono intelligenti. Qua ci pensano sempre, quando pure ti offrono una cosa, a farci fare quello che già facciamo qua. Cioè mi chiamano a fare il portiero, il povero... perché questo è un problema della categoria. Non si chiama l'attore in quanto talento a disegnare un personaggio nuovo, a inventare, ma se stai vestito col giubbotto, gli fanno fare il motociclista. Tieni il frac, fai solamente il... No, non faccio un film sul San Carlo, continua a full frac. Non si pensa che io posso chiamare lui. Voglio fare un nano con i capelli biondi. Chiamo lui, ma perché io credo nel suo talento, nella sua arte, che deve creare con me una cosa. Qua se non somigli a loro immaginari, è questo e poi il vantaggio abbiamo avuto noi a stare qua dentro. E l'ambiente ci snoba, il pubblico no, perché poi viene a vederci a teatro, è curioso di vederci fare altre cose. Questo voglio dire. Poi alla fine a noi quello che ci interessa è il pubblico. E il pubblico sappiamo che non ci lascia. Quindi al di là di se ci promozionano bene o no, noi sappiamo che... Senti, è peggio per loro. Oh, è peggio per loro. Ciao. L'Ofuara.